Un saluto ben ritrovati dalla redazione del Tg della Mobilità. Proseguono i lavori per la realizzazione del nodo di scambio tra le metro B e C al Colosseo, per lasciare spazio al cantiere fino al 4 giugno. La sera, dopo le 21, lungo la tratta Castro Pretorio-Laurentina della linea B della metropolitana, ci sono bus-navetta al posto dei treni. Inoltre, nei fine settimana di maggio, in particolare domani e domenica, e poi ancora sabato 21 e domenica 22 e sabato 28 e domenica 29 maggio, sempre tra Castro Pretorio e Laurentina, sono previsti bus-navetta al posto dei treni per l'intera giornata. I dettagli su romamobilità.it